musica è anche la prima volta che sono in Cina allora dopo questo vorrei magari cominciare a introdurre questa produzione e sicuramente sarà una produzione piena di magia ho un lungissimo rapporto con la Traviata di Verdi il realismo nell'operabilità secondo me questa è la mia opinione personale è completamente sbagliato lo specchio ha una misura di 22 metri per 12 e il materiale è un materiale molto particolare che si chiama specchio Translux che abbiamo fatto produrre in Italia che non ha delle strutture di giunzione ma è una pellicola unica in questa misura ed è costituito da una sostanza che consente contemporaneamente di farlo funzionare come uno specchio perfetto ma avendo una retroilluminazione diventa un filtro trasparente ci sostituisce in verticale la pittura e in pianta, cioè visti dall'auto, i protagonisti quindi una realtà è sempre contrapposta all'altra la pittura è in dritto quando i personaggi reali sono in rovescio e i personaggi reali sono in dritto quando la pittura è in rovescio quindi c'è una sorta di piccolo paradosso continuo che ci consente di mantenere un'attenzione perché non capiamo mai veramente qual è la vera realtà quanto il video è uno strumento è lo strumento fondamentale per aggiungere questa terza dimensione è uno strumento che aggiunge questa dimensione che può apparire e scomparire a nostro piacimento e aggiungere questa profondità allo spettacolo è uno strumento che aggiungere questa profondità allo spettacolo